benvenuti a questo nuovo video training per affinity photo e voglio farvi vedere come trasformare questa immagine in lab e poi elaborare i toni e dunque modificare i toni sfruttando la potenza del lab se noi guardiamo questa immagine qui ha una sicuramente un'eccessiva saturazione e soprattutto un eccesso di colori caldi di colori tendenti al giallo e al marrone ora per creare un effetto opposto e dunque è più freddo più marcato e anche diciamo meno caldo ho utilizzato il lab con questo risultato voi vedete qui qui l'effetto è molto forte per quanto riguarda il magenta che contrasta con questo cielo blu e grigio però senza avere guardate questa presenza di blu verso il viola come questo giallo troppo forte il giallo rosa troppo presente qui nei bianchi guardate qui il risultato qui si vede che è una giornata da tempesta dunque la presenza di colori freddi come il ciano così via sono marcati però anche il magenta crea questo effetto più freddo però i toni gialli comunque sono mantenuti e più realistici rispetto a questo eccesso di giallo qui e questo vale anche per il terreno comunque come vedete sono due effetti molto diversi e adesso andiamo a vedere come realizzare il tutto prima di tutto creo una maschera di luminanza tengo prometto il tasto contro il tasto maiuscolo e clicco qui sull'immagine del livello voi vedete qui questa è la mia maschera di luminanza e adesso in livelli livelli di regolazione aggiungo un bianco e nero perché sfrutto il bianco e nero per smussare diciamo questi colori adesso deseleziono e voi vedete già come ho smussato molto questi colori perché non è un bianco e nero non è un bianco e nero perché ho utilizzato una maschera di luminanza e dunque tutte le zone più scure sono quelle dove si mantiene di più il colore questo vuol dire qui nelle zone di colore di fatti nel cielo negli alberi nei prati e qui in parte nei grigi dei mezzi toni là dove c'è molto più chiaro vedete è diventato bianco e nero e questo ovviamente è giusto così ha senso così perché guardate così abbiamo già neutralizzato tutta questa zona eccessivamente gialla vedete nelle case le case se prima qui erano anche qui dove in realtà potevamo avere un bianco di marmo bianco e non rosa vedete qui adesso l'abbiamo neutralizzato però adesso sfruttiamo il lab invece per dare i toni più freddi che vogliamo dare alla nostra immagine allora come creare un lab vado sotto documento formato colore lab vedete adesso l'immagine è stata convertita in lab tant'è vero che se adesso vado a vedere nei canali io il mio canale di luminosità e dunque su questo canale posso lavorare solo sulla luminosità poi il canale a che gestisce il magenta e il ciano e il canale b che gestisce il giallo e il blu allora adesso torno qui nei canali compositi torno nei miei livelli e applico una curva vedete qui nelle curve ovviamente anche qui noi lavoriamo o sui canali compositi o sul canale della luminosità o sul canale a o sul canale b allora se io adesso lavoro sul canale a e sul canale b accento o modifico i colori di magenta e di ciano voi vedete che qui spostando il cursore verso destra aumento il ciano spostando il cursore destro a verso sinistra aumento il magenta e dunque sta a me trovare questo equilibrio accentuando molto questi due colori vedete senza esagerare il magenta lo lascio ecco crea una cosa così provate a vedere il prima e il dopo voi vedete che qui nel cielo e qui nelle case nelle tegole e qui nella statua ho accentuato questi due colori se poi cambio con canale scelgo il canale b potrei fare la stessa cosa voi vedete col blu e col giallo creando così di nuovo stesso effetto di colore ma molto più intenso però non è questo che volevo fare perché ho usato il lab proprio per fare sì che lavoro solo col magenta e col ciano guardate il prima e il dopo vedete che ho già dato un'impronta diversa alla mia immagine ora io posso aggiungere un leggero tocco più caldo solo qui nelle zone più chiare e questo lo posso fare con divisione toni perché divisione toni determina i toni nelle zone luminose e nelle zone ombra e posso decidere ovviamente con il bilanciamento cosa si ritiene per le zone luminose e cosa si ritiene per le zone ombre allora qui mettiamo un valore di 41 gradi vedete dunque è un giallo e aumento guardate la saturazione qui in questa zona qui senza esagerare però attenzione col bilanciamento definisco vedete quanto zone vengono considerate luce quante ombre se sposto tutto a sinistra praticamente tutto viene considerato luce infatti tutto diventa più caldo se sposto verso destra solo le zone più chiare possono considerarsi zone di luci dunque proprio mi limito proprio solo qui nella zona del cielo vedete aumento molto l'evidenziazione però con un bilanciamento molto elevato verso le zone luci guardate prima e dopo vedete e poi sembra pochissimo però se vi concentrate qui lo vedete ok poi se volete migliorare o aumentare un po le zone luci sposto leggermente verso sinistra il bilanciamento ecco lasciamolo così così crea questo bel contrasto qui di nuvole posso aggiungere un'ultima volta una curva per regolare solo nella zona della luminosità vedete scelgo luminosità col selettore le luci e le ombre vedete aumento qui un po la zona delle luci e abbasso un po le ombre e dunque creo questa curva leggermente ad esse vedete è una curva leggermente modificata però nell'immagine si vede tanto vedete che abbiamo illuminato un po questa zona qui e questo non mi dispiace adesso posso tornare qui nelle regolazioni del bianco e nero e vedere se aumentando vedete il rosso guardate aumento ancora un po questa zona di luminosità delle costruzioni che trovo che sia veramente molto bella e anche il giallo creando così questa bella luminosità in primo piano poi potete regolare un po le nuvole abbassando un po l'azzurro e un po il blu e il verde se volete intensificarlo o renderlo più chiaro sul verde su questi tre colori freddi non starei a intervenire molto però avete visto che sul rosso invece l'intervento diventa interessante anche sul giallo guardate prima se togliesse il bianco e nero vedete che abbiamo colori molto intensi invece così da questa bella luminosità globale all'immagine l'ultimo intervento possiamo andare qui nei filtri live e creare un passo alto dunque una modifica di un aumento diciamo di contrasto soprattutto sui bordi qui dovremmo portiamo l'immagine a un 100 per cento per vedere meglio o anche a un 75 per cento passo alto lo sposto come regolazione un livello assistante metodo di fusione metto sovrapponi e qui man mano vedete che aumento l'impostazione del raggio aumenta il contrasto sui bordi teniamo valori non troppo elevati e proviamo a vedere l'immagine adatto allo schermo porto al 10 magari un po poco portiamo al 25 per cento guardate il prima e il dopo l'intervento è veramente minuscolo e dunque aumenterò un pochettino ancora benissimo e questo è il nostro risultato guardate l'immagine originale è più cupa è troppo gialla è più morbida questa è più contrastata più luminosa più fredda però l'insieme mi pare più interessante voi se fate delle prove vedrete che con piccolissime modifiche otterrete delle modifiche tonali notevole proprio per il fatto che stiamo lavorando con un metodo lab